all'arrivo nel noto comune presilano il visitatore è subito accolto da un grande cartellone pubblicitario con mattia preti che dà il benvenuto nella sua città un simbolo che rende bene l'idea del grande legame che lega taverna al celebre pittore e dal grande valore che l'arte riveste per questa terra i beni artistici e storici della cittadina infatti sono conosciuti apprezzati da sempre anche grazie all'attività del museo civico nelle bellissime sale della struttura museale è stata allestita l'importantissima mostra guercino mattia preti a confronto la nuova linea dell'arte barocca definito evento artistico culturale dell'anno in calabria taverna ha anche aderito insieme ad altri 800 musei italiani alla giornata nazionale delle famiglie al museo promossa da famu sull'esempio degli altri paesi europei i musei si stanno organizzando per rendere accessibile alle famiglie il family friendly le loro proposte attraverso un approccio ludico i ragazzi ricercano le opere segnate nella scheda didattica mentre per i più piccoli è stato ideato uno spazio laboratorio per fare esperienza con l'arte con i giochi e attività la cooperativa sociale arte guidata da maria poleo coordina il programma che ha richiamato molte famiglie tantissimi giovani dimostrando che la cultura può abbattere i muri questa giornata nazionale delle famiglie al museo alla quale aderito il museo civico di taverna abbiamo ideato come come servizi una una scheda diciamo didattica la quale lavorano insieme i genitori con i ragazzi e si soffermandosi su alcune opere in occasione di questa bellissima mostra che c'è al museo del guercine mattia preti quindi giochi e quiz per approfondire gli aspetti peculiari insomma dei quadri e poi per finire un'attività gioco con i materiali dell'arte quindi dai pastelli alle i colori alle tempere insomma tutto quello che significa poi approcciarsi all'arte anche con le mani è un'attività gratuita organizzata appunto per avvicinare per abbattere i muri questo è il tema della 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 giornata la cultura abbatte i muri e come li abbatte li abbatte attraverso la conoscenza attraverso la condivisione attraverso la cooperazione insieme genitori figli bambini famiglie insomma tutti insieme perché il il museo deve essere un luogo partecipato condiviso come cooperativa abbiamo deciso appunto di collaborare col direttore che ha dato l'adesione per la partecipazione alla questa giornata per le famiglie siamo qua quindi tutto il giorno è possibile insomma partecipare gratuitamente insomma le attività del del museo diverse le proposte lanciate dalla nuova cooperativa un prezioso team che vede la collaborazione di maestri d'arte e guidi specializzati arte offre oltre al servizio delle visite alle chiese al museo laboratori didattici per bambini allo scopo di avvicinare l'arte in modo divertente e interattivo tra le nuove attività anche le passeggiate pretiane che coniugano la bellezza artistica con il patrimonio storico gastronomico e naturalistico del nostro territorio con un'attenzione speciale alle tradizioni religiose tavernesi la cooperativa ha già avviato una rete culturale di collaborazione con altri attori che operano sul territorio dal punto di vista turistico come la proloco di taverna l'interazione risulta un passo fondamentale per la crescita culturale di un borgo d'eccellenza nei locali del museo anche l'antica pezzeria dei frati domenicani risalente all'età barocca è realizzata con la tecnica del decoupage qui si possono trovare oltre al book del museo i prodotti artigionali locali come gli originali papioni in legno realizzati da woods e esposizioni di artisti locali merita una visita anche l'area dedicata a riviste libri dell'ente parco il direttore del museo civico e curatore della mostra giuseppe valentino ha raccontato il valore artistico umano dell'incontro di preti e guercino soffermandosi anche sull'importanza dell'evento in un anno in cui si celebrano i 25 anni di istituzione del museo è una mostra che coincide con questo dato storico dei 25 anni di attività istituzionale del museo civico e che comunque consolida anche una programmazione che si spera abbia un futuro nei prossimi anni sicuramente taverna non può che puntare su questo aspetto su questo settore della cultura per avere uno sviluppo oltre che culturale anche sociale questa mostra quindi guercino a confronto con mattia preti non è solo un confronto prettamente artistico tra due grandi maestri del seicento ma anche un confronto che ha risvolti umani sono due persone che si sono conosciute mattia preti si presentò a cento con i propri bozzetti per poter essere inserito nel nella corte estense dove poi lavorò realizzando gli affreschi della cupola di san biaggio a modena per per mattia preti che il nostro più grande pittore della calabria guercino era sicuramente uno dei grandi maestri di riferimento e quindi è un confronto come ho accennato prima che anche umano tanti aspetti di di emigrazione possiamo anche dire un calabrese meridionale che cerca fortuna al nord e questo ribaltamento adesso nella presenza di guercino al sud sicuramente significativo ed è anche un cambio storico sicuramente nelle opere possiamo notare che c'è questo tema che nel titolo della mostra la nuova linea dell'arte barocca c'è la nuova linea perché sia guercino che mattia preti recuperano il naturalismo si distaccano anche da una forma di classicismo raffaellesco o dalla lezione di caravaggio recuperano nelle nelle figure l'umanità come accennato prima e questa è la nuova linea dell'arte barocca questo è il tema predominante di questa mostra e comunque il museo civico anche in servo una serie di progetti che devono dare continuità cronologica alla sua attività pensiamo ad esempio nel 2018 e il centenario di nascita di mimorotella e le origini di mimorotella che sono qui a taverna papà di mimorotella era di taverna quindi l'arte contemporanea a questa continuità con grandi nomi per cui questo presidio nel territorio deve avere questa continuità il mattia preti il seicento ma anche una relazione futura l'arte contemporanea con gli artisti contemporanei